Nuovo appuntamento del nostro settimanale dedicato alla salute grazie alla presenza, la competenza e la chiarezza del dottor Paolo Cascavilla, medico di medicina generale. Buongiorno e bentrovato, dottor Cascavilla. Buongiorno. Allora, abbiamo parlato le settimane scorse dell'antibiotico resistenza, del comune mal di schiena. Oggi, a proposito, e lei l'ha detto anche la settimana scorsa, l'importanza del movimento per stare bene con se stessi e per evitare anche tante patologie. Quali sono i benefici dell'attività fisica sulla nostra salute? C'è una stretta relazione tra attività fisica, attività motoria e la nostra salute. Tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene l'attività fisica uno strumento terapeutico salvavita a costo zero. Quindi le possibilità dell'attività fisica sulla nostra salute sono veramente importanti. E il medico di medicina attento dovrebbe consigliare a tutti questa terapia. Il nostro corpo è una macchina dinamica, è il mezzo di movimento più importante, portentoso. E alla guida di questa macchina ci siamo noi. Dobbiamo farne buon uso per evitare patologie nel futuro. La prevenzione, che richiede sempre un occhio attento del medico di medicina generale, ce la giochiamo anche su questo importante strumento terapeutico. Mi piace la definizione che ha utilizzato del nostro corpo, una macchina dinamica. Mi vengono in mente i grandi campioni dello sport, nel nuoto Michael Phelps e Federica Pellegrini, che fanno delle distanze in poco tempo, oppure grandi maratoneti, oppure velocisti. Quindi comunque, come dire, siamo stati creati per essere dinamici. E al contrario del dinamismo c'è la sedentarietà, coloro i quali non si muovono. Potremmo dire neanche di un centimetro. E la sedentarietà porta anche tante conseguenze, come per esempio, dottor Cascavilli, immagino la pressione alta e il cosiddetto colesterolo alto. È così? Sì. E allora, come diceva lei, è importantissimo il movimento, perché se questa macchina si ferma, perde energie vitali. Quindi la sedentarietà è considerata una malattia. La mancanza di movimento ci espone a patologie importanti, a un indebolimento dell'organismo in modo globale. E dobbiamo pensare che i benefici dell'attività fisica non si limitano solo all'apparato locomotore, è solo la punta dell'iceberg. Dobbiamo andare ad esplorare tutto quello che c'è sotto, muovendosi di più, migliora anche la funzionalità di tutti i nostri organi. Questo è molto importante. E quali sono le fasce d'età che in qualche modo beneficiano maggiormente di questa pratica salutare che è il movimento? Sì, tutte. A cominciare dai bambini, perché qui andiamo ad evitare due grosse derive della nostra società. Una, il sovrappeso dei bambini. E poi la prolungata esposizione ai media digitali. I bambini hanno l'argento vivo addosso, devono esprimere col movimento. Oggi si parla anche addirittura di disturbi da carenza di natura nei bambini. esercitare attività fisica anche in natura, sia per i bambini che per gli adulti, rappresenta una marcia in più, un valore aggiunto. È chiaro che non dobbiamo pensare che sia solo appannaggio dei bambini o dei ragazzi, soprattutto degli anziani. Negli anziani l'attività fisica previene la maggior parte delle malattie croniche tipiche dell'anziano. Le possiamo anche citare? Sì, citiamo, le elenchiamo, è certo. Ad esempio, partiamo dall'apparato locomotore, l'indebolimento della struttura ossea, ma non mi fermerei a, lo sanno tutti, l'osteoporosi, anche alla perdita di massa muscolare, che in un termine tecnico si chiama sarcopenia. Questo favorisce le cadute e le conseguenze delle cadute, per esempio le fratture. Ma anche previene patologie cardiovascolari, metaboliche, il diabete. Oggi si parla di diabete urbano perché si riferisce agli stili cittadini di vita, sedentari. Quindi il movimento rappresenta sia una prevenzione, e sia una cura per il diabete. Abbiamo parlato di strumento terapeutico. Spesso il medico di medicina generale si trova alle prese con una politerapia negli anziani, farmacologica. Consigliamo questa politerapia perché nell'anziano previene tante malattie. C'è persino un parallelismo diretto tra declino fisico e declino cognitivo. la fragilità cognitiva dell'anziano. Quindi camminare fa bene e migliora anche l'umore e anche se vogliamo regolarizza l'alimentazione e anche il sonno che negli anziani è anche questo un problema. Infatti spesso nelle grandi città ma anche nelle piccole incontriamo gruppi di persone della terza età che con la tuta, le scarpe adatte fanno delle camminate magari anche urbane anche in città oppure in parchi o chi è un po' più fortunato in boschi e campagne. Quindi la camminata la possiamo mettere al numero uno dottor Cascavilla come attività motoria. Ce ne sono delle altre che lei consiglia per la terza età? Sì, allora la camminata aerobica tutti la dovrebbero fare. Aerobica quindi significa quella dolce senza impegnare troppo. Non passeggiata ma camminata con un certo ritmo. Sì, magari chi può a passo svelto almeno mezz'ora 40 minuti al giorno e io consiglierei anche l'uso dei bastoncini nell'età anziana perché anche chi ha qualche difficoltà motoria pensiamo patologie magari il ginocchio che non tanto va l'anca ecco, questo evita il sovraccarico su queste strutture quindi è un trucco per non avere alibi nel cammino. Poi anche per gli anziani vanno bene gli sporti in acqua adesso viene l'estate anche in una piscina perché qui viene meno il peso del corpo e quindi le strutture le articolazioni sono meno sovraccaricate dal peso e quindi vanno tutte bene. Quindi direi che l'attività fisica va commisurata anche nell'anziano con le sue condizioni di salute e chiaro poi bisogna rivolgersi anche a degli specialisti nel caso in cui ci possano essere patologie cardiache o altro. Esatto quindi non iscrivetevi in palestra e mettetevi a fare pesi così senza essere seguiti se poi ci sono come dire degli istruttori delle palestre di fiducia si possono rivolgere a loro e quindi e poi lei parlava appunto dell'importanza anche di fare ginnastica in acqua quindi non disprezzare quando si va nei villaggi o nei lidi che hanno il cosiddetto momento dell'acqua gym assolutamente no è un bel momento anche quello di movimento e perché no anche di socialità prima parlavamo anche dell'importanza che appunto fare attività fisica regola anche l'alimentazione e quindi come dire si inizia a tavola ad essere sani e a stare bene dottor Cascavilla c'è una relazione tra attività motoria e tumori sì ultimamente le nuove informazioni scientifiche ci portano ad affermare anche questo che l'attività fisica può prevenire l'insorgenza dei tumori o o anche produrre delle forme meno aggressive di tumore e poi anche per chi fa chemioterapia migliora l'uso dei farmaci e previene le recidive questo è dovuto al fatto che l'attività fisica è miracolosa sul nostro sistema immunitario quello che ci difende quella trincea di difesa contro gli agenti esterni comprese le cellule tumorali perché si è visto che migliora e rafforza il sistema immunitario soprattutto in quei soldatini che sono alcuni particolari linfociti denominati natural killer lo dice la parola stessa che ci difendono anche dall'aggressione di queste cellule tumorali che ogni tanto possono sfuggire in ogni organismo impassiscono e purtroppo poi causano serie conseguenze per la nostra salute per qualsiasi tipo di informazione o consulenza c'è il medico di medicina generale che educa e informa e per questo grazie al dottor Paolo Cascavilla prossimamente a proposito di salute affronteremo un argomento importante parleremo di lotta al fumo di tabagismo in quanto il dottor Cascavilla è anche membro attivo del comitato tecnico scientifico della Simefac la società interdisciplinare di medicina di famiglia e comunità lei è responsabile proprio dell'area tabagismo ricordiamo da sempre lei in prima linea nella lotta contro il fumo non finirò mai appunto di ringraziarle soprattutto di ricordarle in questa sua veste grazie per essere stato con noi alla prossima settimana grazie a voi per averci seguito in questo spazio continuate a farlo perché Just Today prosegue linea alla regia a breve pausa e poi ancora insieme